Lezione di lingua italiana. Che continente è questo? Insegnante, Paola Delumet. Questa è una mappa. Questa è una mappa del mondo. Questi sono i continenti. Che continenti sono? Europa, Asia, Africa, Australia, America Settentrionale, America Meridionale e Antartide. E questa è l'Europa? Sì, è l'Europa. E questa è l'Australia? Sì, è l'Australia. E questo è l'Antartide? Sì, è l'Antartide. E questa è l'Africa? Sì, è l'Africa. E questa è l'Europa? No, non è l'Europa. E questa è l'Australia? No, non è l'Australia. E questa è l'America? No, non è l'America. E questo è l'Antartide? No, non è l'Antartide. E questa è l'Africa? Ah, è questa l'Asia? Sì, l'Asia è questa. E questa è l'Africa? No, non è l'Africa. E questa è l'America? No, non è l'America. E questo è l'Antartide? No, non è l'Antartide. E questa è l'Australia? No, non è l'Australia. Che continente è questo? Questa è l'Europa. Che continente è questo? Questa è l'Africa. Questa è l'Antartide. Che continente è questo? Questa è l'Antartide. Questa è l'Australia. E che continente è quest'altro? Questa è l'Europa. E che continente è quest'altro? Questa è l'America. E l'America meridionale? No, non è l'America meridionale. Quale parte dell'America? Settentrionale. Che continente è questo? Questa è l'America settentrionale. E questo? Questa è l'America meridionale. E che continente è quest'altro? E' l'Asia. E quest'altro? E' l'Antartide. E questo? Europa. E questo? Australia. Osservate la mappa. Che continenti sono? Sono l'Europa. L'Asia. L'Africa. L'Australia. L'America settentrionale. L'America meridionale. E... L'Antartide. La lezione è finita. Bravi! Alla prossima! Grazie. Grazie a tutti.